ben tornati subito su minecraft dopo abbastanza tempo rieccoci qua sempre nel mio bellissimo mondicino che ha avuto dei piccoli aggiornamenti aggiornamenti allora vi farò vedere gli aggiornamenti del mio bellissimo mondo prima di tutto questa bellissima antenna che dovrebbe prendere il digitale terrestre e tutto quanto in caso notch si decida di mettere un televisore o qualcosa del genere di minecraft meglio essere preparati secondo novità un bellissimo caffè questo qua è entrato dal retro furtiva questa invece l'entrata davanti semplici scale in savia che salti rimbalzi po non è ancora finito caffetteria patata banana appassita per ora vende tanto zuppa di fungo a tre iron o un'ora purtroppo nocce di bevande ne ha messe veramente poche cioè una quindi per la caffetteria vende tanto quella merdissima zuppa figo vero altra cosa la potete vedere in lontananza lo sport hole appena arriviamo odio saltellare qualcuno si chiederà perchè mi odio saltellare perchè per colpa dei server ufficiali con mc mmo che devo stare lì un'ora a dompettare a buttarmi dei posti per aumentare l'acrobatic saltellare te ne ho preso spazio ormai mi ha rotto leggermente le balle ecco ci fate lo sport hole o hole hole sport hole ecco la mia barchetta e potete dire che contiene un bellissimo campo da basket con gradinate tutto unico difetto mancano i canestri non so come fare i canestri dovrò pensare a come fare i canestri ok adesso riprendiamo la barchetta e andiamo all'ultima novità appena arriviamo eccolo la il portale 2.0 un portale completamente diverso da tutti gli altri portali che ci porterà all'inferno andiamo all'inferno TELETRANSPORTO TELETRANSPORTO appena si crea il mondo del nether dicevo appena si carica il mondo del nether ma quanto cazzo ci mente a caricarsi sto cazzo di mondo del nether porco nether affanculo il nether e datti una mossa nether aiaiaiai ce la facciamo ok siamo arrivati ma che cazzo si ma dai devo spawnare sempre nei buchi di c***o dei posti gravel oh oh mi sta venendo una voglia incredibile di fare una cosa ma non la farò ancora la farò un'altra volta allora vi chiedete perchè siamo venuti qua giù perchè vi ho fatto vedere l'inferno? perchè devo farvelo vedere? no ragazzi sono qui per recuperare una materia molto importante che adesso capirete aiaia però non mi sono portato dei blocchi a parte questi due cavolo di casse dobbiamo prendere quella pietra luccicante ma non so come cavolo arrivarci mmm quella posso prenderla no è troppo no che palle sono venuto qua senza blocchi di terra e niente e mo come cavolo lo recupero quella bellissima pietraggine beh a sto punto non ho altra scelta gravel mi servi ho bisogno di te ed ecco la prima gravel ma non ci ne basterà così poca gravel mi servi già per recuperare altra gravel ma non la flint ma porco non la... non voglio la flint ma dai ma non è possibile quando mi serve la flint viene fuori gravel quando mi serve la gravel mi viene la flint ma porco pur caduto olè è bello che mettendo i blocchi di gravel e riprendendo il rischio anche di romperla e di farla diventare flint vabbè ok basta non ci riesco non posso sottottenermi addio gravel no aspetta cadi gravel yeeeh che figata è stata veramente una grande figata vedere tutta quella gravel cadere comunque credo di averne abbastanza il rischio di gravel ma si dai mi basta ok flint ancora flint ho preso fuc bom visto che ho tempo a sufficienza per fare tutto quanto interrompo quella parte nella prossima parte mi vedrete mecca caffeggio dell'inferno yep